Sono Roberto Greco e sto organizzando la mostra fotografica Storie di Luce, che è una mostra volutamente tematica. Dopo otto anni dall'inizio del mio percorso artistico all'interno della fotografia ho raccolto alcuni scatti e ne ho fatti una mostra. È un progetto che ha richiesto diverso tempo, poiché la scelta delle fotografie è stata abbastanza impegnativa. In particolare ci tengo a sottolineare che le mie fotografie nascono da un'idea, quella che non devono essere studiate. Per questo motivo la mostra è tematica, poiché si tratta di catturare un istante. La mostra vuol indicare prima di tutto quelli che sono i canoni classici della fotografia, come l'armonia compositiva e la bellezza che si cela dietro uno scatto. Difatti in questo bianco e nero possiamo vedere come la geometria indica una quinta che successivamente distacca un soggetto, ovvero delle persone che stanno facendo questa escursione al Forte Vittoria. A proposito di persone, diciamo che questo è il mio intento principale, ovvero nella maggior parte delle mie fotografie vi è sempre raffigurata la persona umana, che sia questo soggetto principale o semplicemente di passaggio in secondo piano. Un altro scatto che possiamo ammirare è questo qui, che ho fatto a Londra, ad Hyde Park. Diciamo che nella sua semplicità questo scatto per me rappresenta molto, poiché diciamo che questo riflesso nell'acqua e questa geometria che si crea mi ricorda molto un celebre scatto di Henri Cartier-Bresson, che appunto è il fautore della corrente di pensiero dell'istante decisivo, come lo chiamava lui. E quindi di conseguenza questa fotografia fatta in un istante dopo sarebbe risultata diversa e questo riflesso sicuramente sarebbe stato diverso. Per cui ecco, cerco di riprendere sempre nelle mie fotografie quello che è appunto l'attimo da cogliere in quel preciso momento. Un esempio che possiamo fare anche di dettaglio e di fotografie di persone è sicuramente questa carrellata sulla settimana santa. Qui mi sono soffermato non solo sulle tradizioni e quindi sulle persone che vengono rappresentate all'interno della foto, che sono i veri protagonisti di questa tradizione, ma anche sui dettagli. Difatti qui possiamo notare come la croce viene riflessa sul volto di questo ragazzo. Ho qui questa foto che è abbastanza emblematica di quello che voglio spiegare, il dettaglio della croce che riprende anche un po' il sorrisino, il ghigno di questa persona che durante la processione osservava i passanti. Vi aspetto dal 10 al 15 ottobre presso l'ex orfanotrofio Suore Sant'Anna di Augusta. Invia Orfanotrofio.